Insomma, te vuoi spiegare come l'era 14? L'era! Hai frutti di mare, di bosco, di montagna, di pianura e di campagna! E pure ci date che te fate! Capite? E anche quest'anno il gruppo Farofoglia tornerà all'Arena BCC di Fano, intanto in che giorno? Il 17 luglio, esattamente, Simone, assieme a tutta la compagnia rappresenteremo una delle nostre, come dire, migliori rappresentazioni, perché ovviamente la BCC di Fano meriti il meglio che noi possiamo rappresentare, come tutte le altre compagnie. Siamo qui alcuni rappresentanti del nostro gruppo teatrale, con il nuovo presidente qui vicino a me, che si chiama Walter Alessi, la nostra grande subrette, la nostra Miriam, Miriam Angelotti, il nostro caratterista, qui il nostro amico Ermes Oliva, il nostro tecnico del suono e delle luci, Paolo Rossetti, ma ce ne sono anche degli altri, questa sera siamo venuti in delegazione a fare questo. Giva mei, quan giva peggio, giusto? Allora, stiamo attenti, l'accento ha un suo perché, allora si deve dire, giva mei, quan giva peggio, in dialetto pesarese l'accento, in questo caso acuto, è fondamentale, se no dobbiamo aprire troppo, ha capito, la bocca. Noi cerchiamo di far andare meglio questa serata del 17 luglio, faccio vedere alla camera il 17, che è sempre un venerdì, quindi faremo parte di questa rassegna, l'undicesima rassegna teatrale, siamo onorati come tutti gli anni di poter partecipare a questa grande Kermess, qui alla BCC Tre Ponti di Fano. Non c'era un passaggio a livello, no, no, non c'era, però si è mangiato bene un bel po', oh, almeno quello, sa chi è che aveva il po' del, madonna, sa, ti ci ha dato una, una, una bastunetta, perché è peccato!